Oggi su Recessione Smart avremo lei, Kawasaki Z400, una naked davvero interessante con tanti pro ma chi lo sa magari anche qualche piccolo difetto e se potremo raccontarvelo dovremo ringraziare il concessionario K Monza del quale in descrizione troverete tutte le informazioni ma direi di partire subito rapidamente dall'estetica perché poi parleremo anche di come si guida su strada A primo sguardo capiamo subito che stiamo parlando di una Kawasaki, questo perché condivide moltissimo con la sorella Ninja sia meccanicamente ma anche dal punto di vista del motore, un bicilindrico da 399 di cilindrata quindi capirete bene che è quel tipo di moto per quei ragazzi che appena compiuti i 18 anni, appena hanno conseguito la patente A2 che vogliono effettivamente entrare nel mondo delle moto possono puntare su di lei perché sì magari lei non avrà uno schermo gigante per farci vedere la navigazione, Apple CarPlay o così via ma ha uno schermo piccolino con tutte le informazioni necessarie ma il suo punto forte è la guida su strada e soprattutto di come veramente vi fa entrare nel mondo delle moto parlando dell'estetica avremo un telaio e le forcelle che sono a traliccio in tubi da ciaio ma soprattutto in questa colorazione è un po' diversa, di solito noi la Kawasaki ce l'aspettiamo nera e verde mentre in questo caso un'unione del bianco, rosso e tutta la parte qui sotto nera rendono veramente un'unione dei colori molto bella da vedere dimensioni 1,99 di lunghezza, 80 cm di larghezza e 1,05 di altezza parlando invece di sella che è poco imbottita ma comunque comoda per il guidatore 78,5 cm da terra che per me che sono 1,70 sono perfetti, riesco a appoggiare perfettamente il piede quando mi vado a fermare se invece siete un po' più alti tranquilli, Kawasaki ha pensato anche a voi c'è come optional una sella leggermente più rialzata quindi da darvi una seduta un po' più confortevole quindi non sarete troppo schiacciati con le gambe ma spostiamoci qui davanti dove avremo delle linee un po' più sagomate ma che comunque danno sempre un tocco sportivo alla moto e soprattutto questa parte qui di mascherina di sera al gruppo ottico a led, beh anche di giorno però comunque di sera fa un effetto molto più bello da vedere e riesce a illuminare bene quella che è la strada quindi davvero un ottimo lavoro ma soprattutto la cosa che mi è piaciuta moltissimo è la parte qui in manubrio che sono riusciti a farlo a quell'altezza giusta che ci permette di non stare troppo schiacciati con la schiena durante la guida un'altra cosa interessante è il fatto che comunque questa moto sia omologata per due quindi comunque ci si può portare un compagno dietro ecco in questo caso io con la mia ragazza ho avuto qualche piccola difficoltà perché non ci sono delle maniglie, non ci sono degli appoggi per potersi tenere quindi mentre sarete in moto bisognerà per forza tenersi al guidatore ovviamente comunque ci sono le pedane per andare ad appoggiare i piedi ragazzi io lo so che vi sto già annoiando con la parte dell'estetica quindi faccio subito una cosa e mentre la faccio mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi al canale perché il 98% di voi guarda i nostri video ma non si iscrive e quindi ora godiamoci il sound la moto si accende ovviamente avremo tutto qui sotto controllo anche il livello per vedere se la moto sia calda oppure no ma andiamo a dare una piccola accelerazione piccola slimitata amici di K Monza mi raccomando non arrabbiatevi questo perché per dirvi che il sound di questa marmitta che come potete vedere è stock quindi non stiamo parlando di una modificata o montata successivamente è davvero molto bello da poter ascoltare si sente bene si sente che stiamo parlando di una motorizzazione quattro tempi ma anche quando magari stiamo andando un po' più su di giri e soprattutto quando andremo a superare i 7000 giri il sound è tanto tanto piacevole anche da lontano vi si sente arrivare e quindi lo so che per quelle persone che scelgono questa tipologia di moto è una cosa da tenere in considerazione quindi sa essere civile quando la guidiamo a bassi giri ma sa scatenarsi quando andiamo un po' più forte ma torniamo a parlare in maniera un po' più tecnica cerchi da 17 sia davanti che dietro come i freni a disco davanti avremo un disco da 310 mm e soprattutto un profilo a margherita posteriormente invece da 220 mm parlando invece del codino avrà delle linee un po' più rigide che daranno un animo un po' più sportivo alla nostra moto davvero molto bello da vedere con un portatarga tanto presente ma so che ne abbiamo parlato troppo mi metto il casco e le protezioni e andiamo su strada uno 0-100 in 4,7 secondi una velocità massima di 170 km orari per questa motorizzazione 4 tempi bicilindro con 45 cavalli ma soprattutto 38 Nm di coppia massima a 8000 giri veramente un motore ben studiato come proprio tutta la moto con raffreddamento a liquido e 167 kg in ordine di marcia ma la cosa che colpisce maggiormente è la posizione di guida azzeccata il manubrio è un pochettino più rialzato quindi riuscite a stare comodi con la schiena ma soprattutto riuscite a prendere subito confidenza con lei riuscite a sentirvi padroni perché nei percorsi misti sa essere molto agile veloce nei cambi di direzione e tanto stabile in percorrenza quindi veramente vi fa sentire subito padroni come magari può succedere con qualche moto più potente la cosa interessante è il fatto che abbia una erogazione fluida ma soprattutto sa essere anche tranquilla a bassi giri con una presenza molto importante del freno motore ma una volta superati gli 8000 giri saprà scatenarsi il sound dello scarico è molto forte si sente, è interessante ma appunto vi fa divertire ti invoglia proprio ad andare un pochettino più forte piccola pecca forse la mancanza dello shift up ovvero quel piccolo numerino sullo schermo che ci fa capire quando è il momento di andare a cambiare marcia ma comunque lo vedremo sempre in che marcia ci troviamo quindi se magari stiamo ancora imparando ci siamo un po' persi riusciamo a capire in che marcia siamo e un'altra cosa un pochettino un po' più soggettiva è che ogni tanto si sentono delle leggere vibrazioni ma comunque è un qualcosa di normale che comunque ci si può aspettare ma veramente non troppo fastidiosa e soprattutto bisognerà proprio farci tanta tanta attenzione ma invece due cose estremamente importanti che avremo a disposizione in primis la frizione con sistema antisaltellamento per chi non sapesse cosa sia in maniera molto semplice permette alla ruota dietro di non bloccarsi e soprattutto c'è anche la presenza dell'ABS di serie quindi veramente tanta sicurezza una cosa importante che mi stavo quasi per dimenticare le sospensioni hanno delle molle un po' più morbide rispetto alla Ninja ma che comunque offrono tanto comfort in città quando magari si vanno a incontrare dossi o buche o comunque conosciamo spesso le strade italiane che non sono proprio precisissime riescono comunque a dosare bene ma soprattutto anche a far divertire e quale posto migliore se non dal benzinaio per parlarvi dei consumi della nostra Kawasaki Z400 in media siamo tra i 18 e i 19 km con un litro ma se ci stiamo più attenti riusciamo a fare anche qualcosina in più se invece ci divertiamo e ci lasciamo prendere la mano andremo a consumare maggiormente con questo serbatoio da 14 litri se arriviamo proprio a secco e vogliamo fare il pieno contando che oggi costa all'incirca 1,85 euro la benzina dovremo fare 14 per 1,85 e otteniamo all'incirca 26 euro di pieno se invece dobbiamo calcolare più o meno un'autonomia massima siamo all'incirca sui 250 km quindi con questo sorriso che non è a 32 ma bensì a 64 denti perché mi sono divertito veramente tanto andiamo a tirare le conclusioni finali su questa Kawasaki Z400 parliamo di prezzo 6.390 euro ma dai nostri amici di K Monza del quale in descrizione troverete tutte le informazioni magari riuscirete a strappare anche un piccolo sconto mi raccomando ditegli che vi mandiamo noi di recensione smart che sicuramente sapranno un po' come andare a convincervi se lei ancora non mi ha convinto scherzi a parte a me mi ha convinto veramente tanto sia per come si guida su strada sia l'estetica e comunque anche per il fatto che subito ci sono entrato in sintonia fatemi sapere voi cosa ne pensate vi ricordo che comunque sul nostro canale abbiamo anche la prova della KTM Duke che è un segmento che può essere molto simile oppure anche della Adventure mi raccomando lasciate un bel like e un commento fatemi sapere cosa ne pensate di lei iscrivetevi davvero fondamentale se volete aiutarci a crescere io sono il vostro Romeo Federico e vi auguro una buona giornata e perché no al prossimo video